Ciao ragazzi, qui Marco Agustoni di Illustrator Startup.com. Oggi voglio mostrarvi come convertire un logo portandolo da quadricromia o tricromia a colore pantone. E ovviamente questo lo faremo all'interno di Illustrator. Allora, partiamo da questo pittogramma che ho già inserito all'interno del mio documento e apriamo subito il pannello colore perché voglio mostrarvi che questi tre colori sono effettivamente delle quadricromie. Vedete? Tutti e tre sono composti da delle quadricromie. Allora, come facciamo a convertire questi tre colori portandoli appunto da delle quadricromie a dei colori pantone? Andiamo innanzitutto a vedere dove sono nascosti i colori pantone perché molti di voi sicuramente non lo sanno. Quindi andiamo su finestra, campioni e qui in basso a sinistra troviamo la possibilità di aprire un menu relativo alla libreria dei campioni. All'interno di guide colori troviamo una serie di voci tra cui anche diverse tipologie di pantone. In questo caso a me interessano i colori pantone relativi alla stampa su carta. Quindi pantone solid coatted relativo appunto alla stampa su carta lucida e pantone solid uncoatted relativo alla stampa su carta opaca. Seleziono pantone solid coatted e vedete che si apre un pannello contenente tutta la lista dei colori pantone coatted. Possiamo creare un rettangolo, applicare un pantone qualsiasi e vedete che all'interno del pannello colore illustrator indica che a questo elemento è applicato un colore pantone che si chiama process blue c. Allora come facciamo però a convertire questo logo, questo pittogramma portandolo da quadricromia a colore pantone. Allora per farlo selezioniamo l'elemento, andiamo su modifica, modifica colori, ricolora grafica. A questo punto si apre questa finestra relativa alla funzione ricolora grafica. È un pannello abbastanza complicato che ho analizzato nel dettaglio all'interno del mio grande corso illustrator startup dentro il quale tra l'altro ho parlato di pantoni, colore a tinta piatta. Dunque se volete approfondire l'argomento fate clic sul link in descrizione. Allora vediamo però come convertire questo logo, abbiamo detto che dobbiamo convertirlo in colori pantone solid coatted, quindi andiamo qui su questa icona e selezioniamo guida e colori pantone solid coatted. A questo punto illustrator avrà convertito i nostri tre colori quadricromia e li avrà appunto portati a tre colori pantone. Facciamo clic su ok e vediamo che selezionando ognuno dei tre elementi illustrator ci mostra che l'azzurro è diventato un pantone 299C che sta per coatted, l'arancione è diventato 144C e il viola è diventato 241C. Quindi abbiamo visto come in maniera molto rapida siamo stati in grado di convertire tre colori realizzati in quadricromia portandoli appunto a tre colori pantone solid coatted. Vi ricordo che se volete convertire una grafica potete utilizzare la funzione ricolora grafica appunto dentro la quale tra l'altro potete andare a convertire in qualsiasi altro metodo colore. Come ripeto questo pannello è molto complesso e l'ho analizzato nel dettaglio quindi ho spiegato come funziona all'interno del mio grande corso illustrator startup. Quindi se volete approfondire il mondo di illustrator vi invito a fare clic sul link in descrizione e ad iscrivervi alle quattro lezioni gratuite.